Gesù Cristo, il figlio di Dio, nacque e morì in circostanze uniche. Visse e crebbe in condizioni umili, senza beni materiali. Di se stesso disse, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Non ricevette mai onori, trattamenti speciali, riconoscimenti, né alcun provvilegio dagli esponenti politici della terra o dai capi religiosi dei suoi giorni, né mai si sedette sui primi seggi nelle sinagoghe. Il suo predicare era semplice e, sebbene molte persone lo seguissero, il suo ministero era incentrato sul benedire le persone a una a una. operò innumerevoli miracoli tra coloro che lo accettarono come colui che era stato mandato da Dio. Diede ai suoi apostoli l'autorità e il potere di operare miracoli e opere maggiori, di quelle che lui aveva svolto. Ma non delegò mai loro il privilegio di perdonare i peccati. I suoi nemici furono indignati quando lo udirono dire, va e non peccarlo più, oppure i tuoi peccati ti sono rimessi. Quel diritto apparteneva soltanto a lui, perché egli era il figlio di Dio e perché egli avrebbe pagato per quei peccati con la sua espiazione. Il suo potere sulla morte era anch'esso un attributo divino. Jairo, un capo della sinagoga, lo implorò ad entrare in casa sua perché aveva una figlia unica di circa 12 anni e quella stava per morire. Il maestro accolse la sua pubblica, la sua supplica, e mentre camminavano un servo andò da Jairo e gli disse, «La tua figliola è morta, non incomodar più oltre il maestro». Arrivata alla casa, Gesù chiese a tutti di uscire e immediatamente, presa la parla mano, le disse «Levati». In un'altra circostanza, mentre era in viaggio verso la città di Nain, vide un corteo funebre e una vedova che piangeva la morte del suo unico figlio. Pieno di misericordia, egli toccò la bara e disse, «Giovinetto, io te il dico, levati». Le persone, vedendo il miracolo, esclamarono, «Un gran profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questo miracolo fu ancora più degno di nota perché avevano già dichiarato il ragazzo legalmente morto e stavano già per andarla a seppellire. Avendo riportato in vita due giovani la prova della sua autorità e del suo potere sulla morte, lasciarono toniti i credenti e i calunniatori furono presi da timore. La terza circostanza fu la più rimarchevole perché Marta, Maria e Lazzaro erano fratelli e Cristo spesso faceva la loro visita. Quando la gente lo informò della morte di Lazzaro, egli impiegò quattro giorni per recarsi dalla famiglia. Nel consolare Marta, le rese ferma testimonianza dicendo, «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà». Quando il Salvatore chiese che fosse rimossa la pietra dal sepolcro, Marta gli sussurrò timidamente, «Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno». Allora Gesù le ricordò «Non toio detto che se credi, tu vedrai la gloria di Dio?» E detto questo, gridò con gran voce «Lazzaro, vieni fuori». E il morto uscì. Dopo che Lazzaro stette nella tomba per quattro giorni, i nemici del figlio di Dio si trovarono di fronte a una prova inconfutabile che non potevano ignorare, sminuire o distorcere e in maniera insensata e con cattiveria, da quel giorno, deliberarono di farlo morire. In seguito, assieme ai suoi apostoli, il Cristo vivente celebrò a Gerusalemme l'ultima festa di Pasqua, istituì l'ordinanza del sacramento e diede loro il comandamento di amarsi gli uni gli altri tramite il servizio sincero. Dopo aver fatto ciò, nella più sublime dimostrazione del suo amore per l'umanità e nel pieno esercizio della sua volontà, si incamminò con coraggio e determinazione per andare ad affrontare la sua prova più difficile. Nel giardino degli Osemani, in completa solitudine, egli patì l'agonia più intensa sanguinando da ogni poro. In totale sottomissione a suo padre, egli espiò i nostri peccati e prese anche su di sé le nostre malattie, le nostre afflizioni, per poter sapere come soccorrerci. Siamo in debito con lui e con il nostro Padre Celeste, poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Il suo sacrificio ha benedetto tutti, da Adamo all'ultimo degli esseri umani. Una volta conclusasi la sua angonia nel Gezzemani, egli si osfrì volontariamente nelle mani dei suoi detrattori. Tradito da uno dei suoi, fu condannato in fretta, in maniera sia ingiusta che illegale, in un processo manipolato e incompleto. Quella stessa notte fu accusato del crimine di blasfemia e condannato a morte. Pieni di odio e di sete, di vendetta, poiché egli aveva attestato loro di essere figlio di Dio, i suoi nemici complottarono di forlo condannare da Pilato. A tal fine, cambiarono l'accusa da blasfemia a sedizione, in modo che la sua morte avvenisse tramite la crucifissione. La sua condanna tra i romani fu ancora più crudele. Le beffe e lo scherno riguardo al suo regno spirituale, l'umiliante incoronazione con una corona di spine, la dolorosa flagelazione e la lunga agonia della sua crucifissione pubblica, furono un chiaro avvertimento per ogni persona che avesse mai usato dichiararsi suo discepolo. In ogni momento della sua sofferenza, il Redentore del mondo mostrò un eccezionale autocontrollo. Pensò sempre a benedire gli altri. Con gentilezza e tenerezza, supplicò Giovanni di prendersi cura di sua madre, Maria. Chiese al suo padre nei cieli di perdonare gli esecutori che lo avevano crucifisso. Avendo concluso la sua opera sulla terra, egli rimise il suo spirito a Dio ed esalò l'ultimo respiro. Il corpo fisico di Cristo fu portato alla tomba e rimase lì per tre giorni. Incorruttibile. Mentre i suoi discepoli erano tristi, scoraggiati e incerti, il nostro Salvatore, in un'altra fase del piano glorioso di suo padre, estese il suo ministero in una maniera nuova. Nel breve periodo di tre giorni lavorò instancabilmente per organizzare l'immensa opera di salvezza tra i morti. Quelli divennero alcuni dei giorni più pieni di speranza per la famiglia di Dio. Durante quella visita, egli organizzò i suoi fedeli seguaci affinché portassero buone novelle di redenzione a coloro i quali non avevano avuto l'opportunità di conoscere in vita il glorioso piano o a coloro che lo avevano rigettato. Finalmente avrebbero avuto l'occasione di essere liberati dalla loro prigionia e di essere redenti dal Dio dei vivi e dei morti. Completata la sua opera nel mondo degli spiriti, egli tornò sulla terra per riunire per sempre il suo spirito al suo corpo fisico. Sebbene avesse mostrato in maniera assoluta il suo potere sulla morte, i resoconti scritturali di coloro che egli riportò in vita prima della sua risurrezione dimostrano che costoro furono solo restituiti a una vita che era stata miracolosamente prolungata, ma che sarebbero morti lo stesso prima o poi. Cristo è stato il primo a risorgere e a non morire mai più e a possedere per sempre un corpo perfetto ed eterno. Nel suo stato risorto egli apparve a Maria la quale appena lo riconobbie iniziò ad adorarlo. Il nostro Redentore con grande tenerezza la avvertì riguardo alla sua nuova e gloriosa condizione. Non mi toccare perché non sono ancora salito al Padre, fornendo un'ulteriore testimonianza che il suo ministero nel mondo degli spiriti era reale e completo. in seguito, usando un linguaggio che confermava la realtà della sua risurrezione, disse «Io salgo al Padre mio e Padre vostro, all'Idio mio e il Dio vostro». Dopo essersi recato da suo padre, tornò nuovamente e apparve ai suoi apostoli. Mostrò loro le mani e il costato. I discepoli, dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. Rendo testimonianza che Cristo ritornerà in un modo molto diverso dalla sua prima venuta. Egli tornerà con potenza e gloria, con tutti i giusti e i fedeli. tornerà come re dei re e signor dei signori, come principe della pace, il promesso Messia, il Salvatore e Redentore per giudicare i vivi e i morti. Lo amo con tutto il mio cuore. Prego che possiamo essere degni di vivere con Lui, che possiamo servire con gioia e con dedizione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie a tutti.